Mi è stato chiesto se vengo eletto, cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. Una beata minchia! Con le parole io avrei finito, ora facciamo parlare i fatti, va? Facciamo parlare i fatti, i fatti. Votate gettola qualunque, la politica che scende tra la gente. Votate gettola qualunque. Non costano niente, è tutto a petto da gettola qualunque. Le lezioni sono come un pelo, non finiscono mai. Votate gettola qualunque. Votate gettola qualunque. Grazie. 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 Grazie.